Benvenuti a questo nuovo incontro di Statistica per la Digital Economy. L'obiettivo di oggi è trattare il capitolo 9, i concetti di algebra avanzata. Cominciamo. Io non so quanto voi sapete già di algebra lineare e o se in passato avete già lavorato sui vettori, avete fatto dei corsi sui vettori. Questo mi oscuro. Comunque, io assumo che uno non sappia quasi niente. Allora, la norma, che vuol dire la lunghezza del vettore, è data dalla somma dei quadrati, e, accomodatevi prego, la norma del vettore è data dalla somma dei quadrati degli elementi diviso su radice quadrata. Perciò, se io opero in termini della matrice degli scostamenti standardizzati, le norme di ogni colonna non sono altro che gli scostamenti quadratici medi e i campionari delle diverse variabili, moltiplicate per radice di n-1. Infatti, se al posto degli is con i, io metto gli is con i-m, questo lo riconoscete, è il numeratore della formula del sigma di S-cor. Similmente, nella matrice z, nella matrice degli scostamenti standardizzati, le norme non sono altro che la radice quadrata di n-1. Di conseguenza, lavorare in termini di scostamenti standardizzati vuol dire lavorare con vettori che hanno tutti la stessa lunghezza. Perciò, l'interpretazione della varianza dello scostamento quadratico medio in termini di algebra lineare è la lunghezza del vettore. Tanto più lungo è il vettore, tanto più grande sarà la sua varianza. Preparato, succede subito un esercizio nel testo, l'esercizio 9.1, che parte dicendo generare una matrice di numeri casuali dalla distribuzione T quadrato con 5 gradi di libertà e poi di verificare le norme, le norme al quadrato sugli scostamenti, oppure sugli scostamenti standardizzati. Il file si chiama norma Euclid. Allora, si generano, generiamo una matrice di dimensioni 100.000 per 3 x di dimensioni 100.000 per 3 di numeri dalla chi quadrato con 5 gradi di libertà. La distribuzione chi quadrato con 5 gradi di libertà è caratterizzata da una media pari a 5 e da una varianza pari a 10. Nell'esercizio si chiede, bene, data la matrice x 100.000 per 3, vai a vedere se la media delle colonne è effettivamente vicino a 5. Sì, vedete, il primo è un numero leggermente superiore a 5, il secondo leggermente inferiore, il terzo leggermente superiore. Andiamo a vedere le varianze. Le varianze, sappiamo che una variabile casuale chi quadrato con g gradi di libertà ha una varianza pari a 2g. Cioè, se è 5 gradi di libertà, cioè tendiamo che le varianze siano vicine a 10. Vediamo un po' le varianze. E così è. Le varianze sono vicine a 10. Ovviamente, per replicabilità dei risultati, è stato fissato un seed. Se il seed non viene fissato, le varianze però saranno sempre vicine al nostro 10. Dunque, costruiamo la matrice degli scostamenti dalla media, i scontilde, e la matrice degli scostamenti standardizzati. Allora, ancora una volta. La media delle colonne della matrice scontilde è 0. di scontilde a medie che sono 0, mini di scontilde che sono 0, e ho valori virtualmente 0. Questi numeri per 10 alla meno 15. La matrice degli scostamenti standardizzati, non solo ha le colonne che sono medie a 0, ma anche gli scostamenti quadratici medi o le varianze tutte pari a 1. Allora, per calcolare la norma, o io posso fare, vedete, questa, qua vado a prendere, c'è il ciclo, mettiamo qua il breakpoint, qua c'è il ciclo J che va da 1 a P, mi prendo la colonna J della matrice scontilde, scontilde J definita come la colonna J. In questo caso, prima colonna, su F10 vado a prendere la mia prima colonna, la mia prima colonna, poi faccio la somma dei quadrati degli elementi sotto radice quadrata, e questa è la norma. Va bene? La lunghezza del mio vettore. Oppure, questo che è stato fatto con calcoli manuali, chiamo direttamente la funzione norma. E qua vado a controllare che norm di stil de J e norm di stil de J CHK sia esattamente la stessa cosa. Bene. Poi, questo esercizio non ha niente di particolare, facciamo continuo, qua sulla colonna J degli scostamenti standardizzati vado a controllare che qua, che la norma calcolata in maniera manuale oppure automatica sia esattamente la stessa cosa. E questa norm di ZJ non è altro che la radice quadrata di n-1. Questa norm di ZJ. Perciò, lavorare sugli scostamenti standardizzati significa avere vettori che hanno tutti la stessa lunghezza. Questa norma che abbiamo visto in realtà è un concetto più generale. Perché io di ogni vettore io posso fare la somma dei valori assoluti, posso fare la somma dei valori assoluti elevata alla terza, però faccio la radice terza, la somma dei valori assoluti elevata alla quinta, faccio la radice quinta, oppure posso fare la somma dei valori assoluti elevata a k, un k che tende a meno infinito su radice di 1 meno infinito. E in questo caso allora tende al più piccolo dei valori degli sconi. Se invece k tende più infinito, questa espressione tende al massimo. E tutte queste cose sono implementate sempre nella funzione norm di MATLAB. Allora, norma, se si specifica con un solo argomento di input, allora è quella che si chiama la norma Euclidea, e cioè, vedete come è scritto qua, la somma dei quadrati diviso sotto radice quadrata. In generale, però, questa è la norma generale. Come anche c'è la media potenziata di ordine S, poi c'è la media aritmetica, la media quadratica, la media cubica. E anche qua posso fare qualsiasi norma. Ecco, vedete, questo c'è anche nell'ELP, quello che poi c'è scritto anche nel testo. Se p è uguale a 2 c'è la norma Euclidea, se p è uguale a infinito questo tende al massimo dei valori, se p è meno infinito tende al minimo. Allora, io ho preparato questo esercizietto in cui c'è il vettore X che è composto da questi elementi, poi dice adesso mi calcoli la media con K meno infinito, 1, 2 e infinito. Cioè, mi calcoli quattro norme. Vedete il ciclo for? Norme I, norme di X, PPI, fa la norma dell'elemento iesimo del vettore PPI. Faccio questo norme I, poi metto l'etichetta, metto l'etichetta e la solita cosa di Arrete Table. Ovviamente mi fermate se pensate che ci sia qualcosa di non chiaro. Prima sono andato a fare i calcoli, ho creato questo vettore norme e poi norme ho aggiunto il nome della colonna, ho aggiunto i nomi delle righe, questi ronames lab, guardate come sono state fatte questi lab, l'hub c'era PPI, PPI l'ho fatto diventare stringa e ci ho aggiunto il nome norma P uguale. Vedete come è formato l'hub? PPI che era meno infinito, però era numerico, ho messo stringa concatenato con norma P ecco cosa mi viene queste le etichette allora guardiamo un po' questo vettore se la norma è P meno infinito abbiamo detto che tende al più piccolo 2 la norma per P uguale a 1 bene la somma dei valori assoluti norma somma dei quadrati sotto radice quadrata e questo invece il valore più grande ok va bene allora come le varianze e o il standard deviation corrispondono alla lunghezza del vettore adesso ci chiediamo l'angolo tra due vettori a cosa corrisponde? come si fa a calcolare il coseno dell'angolo tra due vettori? bene il coseno dell'angolo tra due vettori non è nient'altro che il prodotto scalare dei due x trasposto per y diviso le norme di due vettori questo coseno di teta il coseno dell'angolo cioè un altro che funziona il prodotto scalare se i vettori sono standardizzati la loro norma poi è 1 è fissa perciò abbiamo solamente il prodotto scalare tra i due per calcolare il coseno dell'angolo semplicemente una riga di codici il prodotto scalare tra due x trasposto per y un numerino allora prima vedi se io lavoro in termini di matrice degli scostamenti dalla media lavoro in termini di questo is con tilde il coseno dell'angolo non è altro che il coefficiente di correlazione lineare perciò le varianze sono le lunghezze dei vettori le norme scostamente quadratici medi il coseno dell'angolo tra due vettori è il coefficiente di correlazione lineare perciò coefficiente di correlazione lineare vicino a 1 vicino a 1 vuol dire che le variabili sono molto correlate perciò vuol dire che l'angolo è molto piccolo perché il coseno di 0 è 1 se vi ricordate perciò un coseno di teta che è molto piccolo vuol dire variabili che sono molto correlate coseno invece di 90 gradi è 0 se le due variabili sono tra loro ortogonali se il loro prodotto se il loro prodotto scalare è 0 coseno dell'angolo questo qua risulta 0 e quando è che si ha il coseno quando è che si ha 0 per il coseno dell'angolo quando l'angolo è vicino a 90 gradi allora abbiamo visto l'interpretazione adesso delle norme e del coefficiente di correlazione lineare come coseno dell'angolo come si tracciano queste frecce in MATLAB si tracciano attraverso la funzione che si chiama quiver quiver in inglese vuol dire faretra faretra era dove si tenevano le frecce la custodia per le frecce andiamo a vedere questo file che si chiama vettori ortogonali io ho questi due vettori A e B cioè vettori A e B ho questo vettore V1 e questo vettore V2 li metto a fianco V1 V2 V1 e V2 questi due vettori ok questi due vettori allora li metto uno a fianco all'altro e questi costituiscono la mia matrice V prima colonna V1 seconda colonna V2 questa V vedete cosa mi da va bene a parte l'errore di approssimazione ma V trasposto per V è l'identità diciamo come si chiama la matrice tale per cui il suo trasposto è uguale alla sua inversa allora un punto in più a chi me lo dice come si chiama quella matrice in cui il suo trasposto è uguale alla sua inversa questo era uno degli esercizi del capitolo 1 come si chiama il la matrice in cui il trasposto è uguale all'inversa andiamo a vedere del capitolo del capitolo 2 alcune matrici particolari matrici dempotenti matrici ortogonali eccolo qua nella sezione 2.5 una matrice si dice ortogonale se la sua trasposta è uguale all'inversa per far l'inversa basta farla trasposta V trasposto V è uguale all'identità e hanno un determinante che è meno 1 oppure 1 il determinante il determinante di questo V e vedete meno 1 ok determinante di V di V trasposto sempre questa cosa che è sempre meno 1 ma cosa vuol dire in pratica che i vettori sono tra loro ortogonali se i vettori sono tra loro ortogonali vuol dire che il loro prodotto scalare V con 1 trasposto per V2 per V2 è 0 ma quando il prodotto scalare di due vettori è 0 vuol dire che l'angolo tra questi due vettori quanto è 90 gradi bravissimo bravissimo allora signorina è già arrivata il numero di punti oltre quello già oltre perciò non gliene posso dare di punti ulteriori allora cominciamo devo andare per gradi il mio obiettivo è farvi vedere che effettivamente l'angolo è 90 gradi però adesso devo andare per gradi e farvi vedere come si disegnano i vettori e se io ho il mio vettore che è di coordinate AB questo V1 io disegno con qui qui un vettore che parte da 0 0 e arriva fino a coordinate AB guardiamolo vedete il vettore che parte da 0 0 e arriva fino alle coordinate deve arrivare fino a 0 97 0 20 in realtà non ci arriva 0 97 0 20 vedete che è un po' piccolo un po' più piccolo di 0 97 la coordinata X lo vedete AB AB era 0 97 0 20 11 0 90 è un po' meno di 0 97 se effettivamente andiamo a vedere l'elfe della funzione quiver va a vedere tutte queste tutte queste freccette ok perciò qua mi dice che plots arrows nella direzione determinata da U e da V e parte da X e Y noi partiamo sempre da 0 o il vettore può tracciarlo partire da voi noi partiamo sempre dalle coordinate 0 0 ok qua mi dice guarda che per default si fa un si scalano adjust the quiver function automatically adjust the length of the arrows so that they do not overlap allora se ci metto off vuol dire che lui me lo fa esatto questa istruzione off vuol dire 0 0 AB lui me lo fa andare esattamente fino a 0 97 e 0 20 me lo fa andare vedete fino a 0 97 esattamente fino a 0 20 vedete è tracciato in maniera non corretta perché bisogna che la distanza tra 0 e 0.1 sull'asse x sia uguale alla stessa distanza di 0 e 0.1 sull'asse y capito perciò vuol dire che io qua ci devo mettere axis axis equal vedete adesso come lo vedete tracciato come deve essere con la stessa distanza qua una distanza tra 0.1 e 0.2 corrisponde sempre la stessa distanza sull'asse y questo è il mio vettore che parte da 0 0 e arriva fino a 0 97 0 20 chiaramente la coordinata x è molto più lunga della coordinata y se io non ci avessi messo questo axis equal ecco cosa mi risulta così penso che sia un vettore quasi vicino alla bisettrice no la coordinata x è molto più grande della coordinata y perciò axis equal eccolo qua e l'opzione off bene hold on per fare in modo che il grafico successivo non venga non vada a sovrascrivere la freccia successiva non vada a sovrascrivere la prima freccia e qua ci metti il secondo vettore secondo vettore ecco questi sono i miei vettori mi chiedo qual è l'angolo tra questi due vettori oppure oppure tutto in maniera matriciale creo il vettore di 0 e 2 per 1 il vettore di 0 e 2 per 1 qua c'è il vettore v1 e qua c'è il vettore v2 perciò in un'unica chiamata io mi traccio le mie due coordinate le mie due vettore c'è bisogno perciò se ne avete 10 forma matriciale una sola riga di codice tanto partono tutte da 0 e poi qua ci sono le coordinate x dove devono arrivare le coordinate y dove devono arrivare bene a cos di qua adesso faccio il prodotto scalare tra i due faccio v con 1 trasposto per v con 2 quello che ho scritto qua dati due vettori il prodotto scalare dati due vettori con x e y il prodotto scalare x trasposto per y qua v1 v2 p po 1 p po 2 v1 trasposto per v2 bene allora cosa mi dà il coseno dell'angolo a cos mi dà l'angolo vedete returns the inverse cosine va bene mi dà l'angolo theta theta esattamente theta l'angolo in gradi è 90 90 gradi qua glielo faccio glielo faccio stampare l'angolo tra due vettori 90 gradi qua gli faccio stampare la solita condizione di perpendicolarità delle rette se ho due rette che ho m1 e che è uguale meno 1 su m2 le rette sono tra loro perpendicolari dovrebbe essere un ripasso insomma coefficiente di correlazione lineare è il coseno dell'angolo tra due vettori vettori che presentano un angolo molto basso coefficiente di correlazione lineare vicino a 1 vettori che presentano un angolo vicino a 90 gradi coefficiente di correlazione lineare vicino a 0 coefficiente di correlazione lineare vicino a meno 1 vuol dire che l'angolo è pari circa 180 gradi capito perché sono il coseno di pi greco certo bene ci sono due particolari vettori che sono tutti ortogonali e si chiamano vettori elementari questi vettori elementari hanno un 1 in corrispondenza dell'elemento iesimo per esempio e con 2 a un 1 in corrispondenza dell'elemento 2 poi tutti gli altri sono 0 e con 3 a un se guardiamo qua e con 5 a un 1 in corrispondenza dell'elemento 5 tutti gli altri sono 0 questi vettori elementari in realtà se io faccio la matrice identità di ordine 5 e questi sono tutti i vettori elementari cioè con 1 e con 2 e con 3 e con 4 e con 5 vedete il quarto vettore elementi tutti pari a 0 e tranne il quarto che è 1 se voi fate questo lo chiamate i grandi allora il prodotto scalare i grandi con 2 per i grandi con 3 quant'è questo? guardate a matrice identità io faccio il prodotto scalare trasposto per l'altro quant'è il prodotto scalare della colonna i contro la colonna j i due in trasposto viene 0 1 0 0 0 colonna 3 sarebbe 0 0 1 0 0 0 0 è certo perché sarebbe 0 per 0 più 1 per 0 0 per 1 che viene 0 ma certamente ma certamente che 0 e la colonna 2 contro la colonna 4 viene 0 ogni diverso da j bene la matrice i effettivamente è un'altra matrice che è ortogonale che la sua trasposta è uguale effettivamente alla sua inversa i per i uguale a i dunque allora i vettori questi vettori elementari perciò sono due due ortogonali e con i trasposto i per e con j è 0 perciò il loro angolo è 90 gradi che abbiamo visto a condizione di ortogonalità la matrice ortogonale vuol dire che hai tutti i vettori che sono tutti a 90 gradi adesso vuol dire in pratica matrice ortogonale l'idea del libro infatti era prima ti faccio vedere queste cose queste definizioni uno va bene le guarda le definizioni di matrice ortogonale poi dopo ti dico qual è l'interpretazione successivamente però prima dovevo dirti cos'era la varianza cos'era la covarianza cos'era adesso vedi che la lunghezza del vettore è la varianza vedi che l'angolo tra due vettori il coseno dell'angolo tra due vettori è il coefficiente di correlazione lineare ma non è finita qua allora se io ho un determinato adesso un determinato vettore vediamo x ci mettiamo il nostro vettore che è 2 magari un vettore colonna 2 3 5 se io voglio scrivere in maniera vettoriale la somma dei quadrati di questi elementi cosa faccio? cioè io voglio fare 2 al quadrato più 3 al quadrato più 5 al quadrato voglio fare questo voglio fare s con 1 al quadrato più s con 2 al quadrato più s con 3 al quadrato voglio fare la somma degli elementi del vettore al quadrato come faccio a scriverlo in maniera vettoriale se questo si chiama x che operazione faccio? dimmelo un po' si x è trasposta bravissimo dopo viene a ritirare il tuo punto bene è giusto x trasposto per x che viene 38 ma certamente x trasposto è 2 così mi viene 2 per 2 più 3 per 3 più 5 per 5 certamente allora perciò la somma dei quadrati x con i lo scrivo come x trasposto per x se io voglio fare la somma dei quadrati cosiddetti ponderati ogni x con i è a un peso come c'è la varianza ponderata come sono questi scostamenti dalla media pesati questo lo posso scrivere in questa maniera come una cosa che è 1 per n qua c'è n per n n per 1 1 per n per n per n per un n per 1 mi dà luogo di uno scalare infatti tanto è vero che è uno scalare un numero mi torna che se fate il prodotto di questo vettore per questa matrice poi viene is con 1 l'anda con 1 poi viene is con 2 l'anda con 2 is con n l'anda con n poi andate a moltiplicare per questo perciò avete sommatoria degli is con i al quadrato per il l'anda con i allora se uno ha capito se io ho questa matrice che è is con 1 is con n y con 1 y con 1 qua ci vuole y con 1 y con n se uno ha questa matrice y con 1 y con n z con 1 z con n come faccio a calcolare la matrice di sotto capito cosa dovete calcolare se ho questa matrice x come faccio a calcolare la matrice di sotto che è una 3 per 3 la matrice di partenza è una n per 3 n righe e 3 colonne questa questa invece è una 3 per 3 come faccio questa matrice qua la chiamo x grande questa matrice la chiami scrum che operazione faccio prima mi hai detto che se io ho un vettore x rasposto x mi viene la somma dei quadrati degli elementi del vettore se io parto da una matrice che è n per 3 e io voglio ottenere la somma dei quadrati del primo elemento in posizione 1-1 somma dei quadrati della seconda colonna somma dei quadrati della prima colonna in posizione 1-1 somma dei quadrati della seconda colonna in posizione 2-2 invece il prodotto scalare fra i due nella posizione 1-2 fra il primo e il secondo nella posizione 1-3 il prodotto scalare fra prima e terza colonna e così via cosa faccio? se io prendo questa magic 5 allora qua x me lo prendo solamente le prime tre colonne da 1-3 bene allora io voglio vedere l'elemento 1-1 deve essere la somma dei quadrati della prima colonna la somma dei quadrati della prima colonna x 1 al quadrato somma dei quadrati della prima colonna è 1055 somma dei quadrati della seconda colonna è 1105 poi invece la somma di x con 1 punto per x con 2 è 865 insomma se io faccio x trasposto per x c'è tutto certo ecco perché la matrice di varianza e covarianza in termini di scostamenti dalla media è x tilde trasposto per x con tilde diviso n-1 ecco come si ottiene la matrice di varianza e covarianza allora una cosa di questo tipo che è una matrice premoltiplicata per un vettore righe e postmoltiplicata per un vettore colonna si chiama forma quadratica e lo trovate su qualsiasi libro di algebra lineare ma ci chiediamo questa forma quadratica a quale figura geometrica corrisponde beh questo quando allora la definizione di forma quadratica è la nostra matrice quadrata una matrice n per n premoltiplicata per un vettore 1 per n e postmoltiplicata per lo stesso vettore che n per 1 perciò abbiamo 1 per n per n per n per n per 1 e il risultato è un 1 per 1 uno scalare questo questo scalare può essere positivo o negativo immaginate faccio un vettore o un articolo per una matrice per un altro lo stesso vettore x beh allora se per ogni x per ogni vettore x questo risultato di questa moltiplicazione è un numero maggiore di 0 è sempre un numero maggiore di 0 la matrice si dice definita positiva e la matrice di varianza e covarianza o la matrice di correlazione è sempre una matrice definita positiva adesso vi faccio vedere in questo file forma quadra che se al posto di A io ci metto una matrice di covarianza oppure ci metto una matrice di correlazione il risultato di questa moltiplicazione è sempre un numero che è maggiore di 0 vedete dentro forma quadra mi genero dei dati casuali non fisso il seed e mi genero la matrice di varianza e covarianza cov di x ok poi allora qua inizializzo il vettore che si chiama forma quadra un vettore 10.000 per 1 e io ogni volta mi vado a generare dei numeri casuali x e vado a fare questa operazione x trasposto per s per x proviamo la prima volta break point nella riga 11 run i uguale a 1 vado avanti con f10 ho generato questi numeri effetto questa operazione questa operazione è uno scalare il numerino 1 per 3 per un 3 per 3 per un 3 per 1 luogo all'1 per 1 un numero che è positivo diciamo ma è un caso che mi è venuto un numero positivo il risultato lo metto dentro forma quadra i vado avanti e lo faccio per il secondo di nuovo dei numeri casuali per x e vado a calcolare il nuovo valore della forma quadratica bene vado faccio continuo lo faccio perciò 10.000 volte e ho 10.000 numeri di forma quadra tutti questi 10.000 numeri sono tutti maggiori di 0 comunque voi generate x come volete a caso io ottengo 10.000 numeri che sono tutti maggiori di 0 infatti qua il minimo il minimo qua mi viene 0.0025 numeri casuali diversi uno viene fuori un valore diverso ma sicuramente un valore che è positivo allora queste forme quadratiche x trasposto a per x se io faccio tutti i calcoli e lo esplicito faccio tutti i calcoli è in pratica una doppia sommatoria è una doppia sommatoria in cui ho questi termini al quadrato e poi ho i termini sconune scon due sconune scon tre sconiper scongei in generale questa se sono in due dimensioni è la cosiddetta equazione di una conica la parola conica l'avete mai sentita? l'avete mai fatta l'equazione dell'ellisse dell'equazione dell'iperbole? vabbè allora in questa qua quando si fa alle superiori superiori forse un po' più avanzate questa in generale è l'equazione di una conica questa forma quadratica si riduce ad una conica ma la conica che diavolo è la conica? la conica è una cosa tale per cui se io prendo un cono a doppia falda questo è il cono a doppia falda e ci faccio passare un piano io ottengo o la parabola o un cerchio o un ellisse o l'iperbole e tutti fanno parte della famiglia delle coniche le coniche sono curve piane che si ottengono dall'intersezione tra un piano ed un cono a doppia falda allora eh date a vedere su qualsiasi testo di algebra se la forma quadratica è fatta tale per cui ci sono solamente i termini x al quadrato y al quadrato e xy ed è tale per cui il determinante della forma quadratica è maggiore di zero allora si ha un ellisse in pratica la nostra forma quadratica che se la nostra forma quadratica se io ci metto dentro come matrice a della forma quadratica la matrice di varianze e covarianze il risultato di questa operazione è sempre un numero positivo e perciò ci metto c al quadrato in modo tale che mi viene un numero positivo bene questo fra le coniche è un ellisse e in p dimensioni ho il cosiddetto iperellissoide allora la morale è che questa equazione definisce sempre un ellisse adesso in questo esercizio ti faccio vedere che se qua è una matrice di varianze e covarianze e vai a tracciare le cosiddette curve di livello e vai ad aggiungere la barra di colore le barre cioè le curve di livello vuol dire le curve che hanno la stessa ordinata la stessa ordinata qy queste curve di livello non sono altro che degli ellissi andiamo a farlo curve live allora dunque io ho la mia matrice di varianza ecco varianza ci faccio la mia inversa e adesso vado a vedere vado a tracciare questa equazione x-mi sigma la-1 x-mi i valori di x come valori di x le coordinate da-15 a-15 e come valori di x con 1 le coordinate da-15 a-15 e per x con 2 le coordinate da-13 a-18 va bene qua sono le coordinate di x con 1 e x con 2 e vado semplicemente a fare questa operazione a calcolarmi qij eccola qua qij a calcolarmi questa qij allora vado semplicemente a fare l'operazione della forma quadratica che ho fatto in precedenza adesso vado a fare invece la funzione contour contour con l'opzione show test uguale a on eccola qua vedete com'è la matematica l'equazione la forma quadratica da luogo sempre a contorni che sono degli ellissi questo 80 vuol dire che in tutti questi punti il valore della funzione è 80 60 vuol dire che in tutti questi punti il valore della funzione è 60 vedete come è bello il grafico vi dice quali sono i contorni che hanno tutti la stessa altezza i contorni che hanno tutti la stessa altezza sono degli ellissi perciò vedete questa equazione a seconda del valore di qij ottengo ellissi più grandi o più piccoli ma ci sono sono sempre degli ellissi bene allora anche se vi ricordate dal capitolo 2 la distribuzione normale bivariata aveva qua l'esp di questa forma quadratica ecco perché c'erano gli ellissi prima lo fate vedere nel capitolo 2 come questa la distribuzione normale bivariata adesso poi più uno va avanti capisce sempre di più qua i contorni di equidensità sono degli ellissi poi vettori se faccio la somma di due vettori qua u e v la somma di due vettori è la diagonale questa è la regola del parallelogramma se faccio la differenza è invece la diagonale secondaria spazio vettoriale è un insieme di vettori di scalare in cui sono definite determinate operazioni allora noi quello che andremo a fare nei successivi capitoli che ci saranno gli indicatori della qualità della vita delle province italiane ci sarà l'indicatore del valore aggiunto di ogni provincia e perciò sarà un vettore sconuno poi ci sarà l'indicatore della disoccupazione di ogni provincia ci sarà l'indicazione i valori dell'esport per ogni provincia italiana ci saranno i valori dell'esport io ho perciò p vettori di lunghezza n n saranno poi le province italiane io al posto di questi vettori di questi p vettori io devo trovarne uno solo perché devo fare una graduatoria della qualità della vita devo fare quello che fa il sole 24 ore quando mi dice che Parma è arrivata terza nella posizione della qualità della vita che magari Milano è arrivata settima che Aosta è arrivata prima al posto di questi p indicatori della qualità della vita valore aggiunto depositi disoccupazione protesti io devo metterci dei coefficienti devo dare un peso a ciascuna variabile in modo tale da avere un'unica graduatoria finale e allora devo trovare questi coefficienti quelli che mi danno il peso il peso cioè l'importanza di ciascuna variabile e allora un vettore y si dice che dipende linearmente da un set di vettori sconunni sconpi se questo vettore può essere scritto come si chiama combinazione lineare di questi vettori di partenza questo modo in termini questa scrittura oppure scrivere x grande che è la matrice n per p per il vettore c che è c con 1 c con 2 c con p è esattamente la stessa cosa questa cosa si scrive la combinazione lineare vedete x che è n per p c e p per 1 n per p per 1 mi dà luogo un n per 1 un nuovo vettore sarà il vettore riassuntivo della qualità della vita nelle n province questi vettori possono essere linearmente dipendenti oppure linearmente indipendenti i vettori sono linearmente indipendenti se l'unica possibilità per avere il vettore di 0 è quello in cui tutti i coefficienti sono 0 non c'è altra possibilità e allora questo vuol dire che sono tra loro linearmente indipendenti guardiamo questi due vettori vedete 2 1 4 2 questi non sono linearmente indipendenti il secondo è il doppio dell'altro perciò se faccio v 1 per 2 v 1 per 2 meno v 2 è 0 questi sono vettori che sono linearmente che sono linearmente dipendenti o non sono linearmente indipendenti allora si definisce base di uno spazio l'insieme dei vettori linearmente indipendenti che generano questo spazio guardiamo un attimo allora la base di uno io ho questi vettori questi vettori devo prendere il cosiddetto processo generatore per poterli generare tutti nello spazio a due dimensioni se io prendo questi due vettori 0 1 0 e 0 1 io qua se moltiplico per a più b posso ottenere qualsiasi vettore a b lo vedete questo combinazioni lineari di questi vettori 1 0 0 1 moltiplicato per a il primo moltiplicato per a mi dà la prima coordinata il secondo moltiplicato per b mi dà la seconda coordinata ottengo qualsiasi vettore 1 0 0 1 sono vettori che sono linearmente indipendenti mi dica questo qua è combinazione lineare perciò ok vuol dire che il primo vettore il primo vettore per un coefficiente il secondo vettore per un altro coefficiente in generale se ho p vettori se ne ho due sono qua in due dimensioni primo vettore moltiplicato per un coefficiente alla prima coordinata secondo vettore moltiplicato per l'altro coefficiente questo mi dà il vettore c che è ab ma dati questi vettorini 1 0 0 1 io posso ottenere qualsiasi vettore di due dimensioni ab può essere qualsiasi numero li genero tutti si chiama la base in generale se ho questi p vettori della cosiddetta si chiama la base canonica è la base su cui noi siamo abituati a lavorare sono le coordinate cartesiane dove c'è la coordinata x e c'è la coordinata y ma questi le coordinate cartesiane possono essere espresse come funzione combinazione lineare dei vettori di base cosa che cartesi aveva già capito già 600 anni fa quando inventato il diagramma cartesiano ma questa è la base e con 1 e con 2 ma io ci posso mettere anche altre basi insomma questa i3 questa perciò questa matrice identità se uno va avanti questa è la base in tre dimensioni io posso ottenere da questi tre vettorini posso ottenerne qualsiasi credito perché questo i3 per il il mio per il mio vettore che è 2 4 6 2 4 2 4 7 questo questo qua 2 4 7 questa operazione e mi viene sempre 2 4 7 ma è come se fosse la prima colonna questa per 2 più la seconda colonna per 4 più la terza per 7 questi sono i vettori i vettori di base adesso uno che non sa assolutamente niente matrice identità non pensa che dietro c'è tutto quello che c'è dietro della matrice identità questa è la cosiddetta base canonica che permette di rappresentare l'identità di ordine 3 tutti i vettori nello spazio r3 aip è la base canonica di ordine di ordine p allora adesso andiamo io mi chiedo ogni io prima ho espressi in termini della base canonica ma io posso esprimere anche in termini di qualsiasi altra base la base canonica è dove ci sono le coordinate cartesiane ma io posso esprimere in funzione di qualsiasi altra base questo mi viene fuori in termini matriciali ogni vettore is con i può essere espresso tramite una serie di coefficienti y con i nella base definita dai vettori v con 1 v con 2 v con p basta che ho dei vettori che sono tra loro ortogonali perpendicolari tra di loro io posso fare certamente esprimere in una nuova base allora c'è adesso questo esercizio che si chiama cambio base prima ve lo faccio girare tutto così lo vediamo cosa voglio andare a fare e lo faccio girare tutto così vediamo tutto il risultato allora vedete i vettori con 1 e con 2 che corrispondono alle nostre assi cartesiane e questi sono i vettori a, b, c e d rispetto a questi assi cartesiani io invece invece degli assi cartesiani e con 1 e con 2 voglio i nuovi assi cartesiani v con 1 v con 2 lo vedete che sarebbe poi una rotazione questo angolo di 90 gradi quando lo ruoto qua fra i vettori neri c'è sempre un angolo di 90 gradi ho sempre due vettori che sono ortogonali una base ortogonale qua è la base canonica questa è un'altra base ma io questi vettori questo vettore A questi qua sono le coordinate nella nuova base questo A che era 1.7 3.5 erano le coordinate nella base canonica nella base con 1 e con 2 nella base dei vettori elementari io qua vado a trovare le coordinate nella nuova base certo 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 allora il terzo il terzo poi io gli assi cartesiani gli faccio passare per v1 e v2 e dico che sono nuovi assi cartesiani che sono v1 e v2 questo 3.88 0.348 sono le coordinate nella nuova base eccolo qua 0.388 0.348 ma se uno riesce a capire queste cose qua è anche affascinante vedete ho tutti dei vettori questi vettori devono essere tutti ruotati espressi in funzione delle nuove coordinate perché poi faccio tutte queste operazioni con i punti con queste varianze covarianze questi punti li prendo e li proietto in un sottospazio di dimensione ridotta che è in pratica quello che fa il suolo i 24 ore quando trova un'unica graduatoria allora qua ho la matrice X facciamo close all e clear la matrice X la matrice X adesso andiamo un po' dentro questo codice è 4x2 la matrice X dimensione 4x2 ho il primo vettore il secondo il terzo il quarto quattro vettori nello spazio a due dimensioni i miei vettori di 0 va bene allora le dimensioni della matrice X poi mi creo la sequenza la bx da a di a b c d vedete a due punti di la sequenza a b c d sì perché poi io voglio metterci le etichette i vettori allora la questo è il vettore A ok poi dopo c'è il vettore questo è il vettore A questo è il vettore B questo è il vettore C e questo è il vettore B quattro righe della matrice dei dati e qua ci metto le mie etichette la bx da ad bene poi controllo i colori i colori degli assi originari controllo i colori dei nuovi assi cartesiani vedete che colorati in rosso in blu in nero controllo programmazione si stabilisce quali sono i colori bene poi si stabilisce la font size e la lunghezza degli assi cartesiani kk5 andiamo a vedere di nuovo tutto kk5 perché vedete che le coordinate rosse variano tra 0 e 5 la coordinata x questo e con 1 della base canonica non va da 0 e 1 faccio andare da 0 e 5 questo lo faccio andare e da perciò sarebbe 5 e 0 e questo qua sarebbe 0 e 5 una 5 base canonica che sarebbe la mia matrice identità allora qua va bene stabilisco i pannelli lasciamo perdere adesso mettiamolo tutto a schermo intero close all perciò facciamo la prima chiamata a quiver in cui plotto questi quattro vettori poi gli metto il testo di questi quattro vettori cioè questa istruzione gli mette il testo cioè gli mette le coordinate o meglio text orange co mi crea il testo vedete il testo da aggiungere e text lo va a plottare il testo lo va ad aggiungere allora questo vi torna chiaro come ho fatto qua gli ho detto la prima colonna della matrice x la prima colonna della matrice x che è questa me la trasformo in testo num2str num2str me la trasformo in testo vedete che è diventata di character allora se io ho questo randenne 3.1 e qua faccio questo num2str lui me lo trasforma in testo nel genere lo trasforma in testo num2str con il secondo numerino 2 mi controlla quanti decimali utilizzare quando lo vuoi trasformare in testo capito 3 con 3 decimali 2 con 2 decimali ecco l'ultimo numerino controllo i decimali bene questa trasforma in testo la prima colonna trasforma in testo la prima colonna poi questo ci aggiunge la tonda e poi ci aggiunge a ecco come compongo tutto questo a uguale abcd è il mio vettore che ho creato prima uguale tonda e fisso perché c'è sempre poi c'è le coordinate della prima colonna virgola vedete qua la virgola e poi le coordinate della seconda colonna e chiusa tonda capito se al posto della virgola io qua ci scrivevo pippo questo mi diventa texture original cord ecco vedete 1,7 pippo 3.5 ecco la virgola chiaramente separo la virgola bene allora mettiamo digitiamo zero n ok allora andiamo fino a questo punto run ok coordinato uguale per due assi e poi facciamo facciamo hold on e poi il coordinato uguale per due assi adesso a questi vettori ci andiamo ad aggiungere gli assi cartesiani della base canonica questi vedete i vettori rossi 0,5 c'è 5,0 e 0,5 e poi ci mettiamo le label per la base canonica e assi uguali ecco questo qua è il mio primo grafico dunque adesso io invece di rappresentare nella base canonica io vedete che ho un'altra base vedete questa v questa v è un'altra base invece di rappresentarli nelle coordinate x e y del piano cartesiano questa è un'altra base ma questa matrice è ortogonale? sì è ortogonale è un nuovo sistema di incremento di assi cartesiani allora come dice come fai adesso a trovare le nuove coordinate nel nuovo sistema di riferimento fai semplicemente e ancora una volta fai questi prodotti scalari x per v x per v sono le nuove coordinate se questa è una matrice ortogonale qua moltiplico per v trasposto e qua mi viene vedete x per v qua v trasposto per v mi viene l'identità e io qua faccio le regole dei trasposti che vi ho fatto vedere nel capitolo nel capitolo 2 a per v trasposto uguale b trasposto per a trasposto comunque se ho una matrice x se la matrice è ortogonale io posso fare x per v per v trasposto perché tanto v per v trasposto è l'identità oppure posso scriverlo questo come x per v dove x per v è y posso scriverlo come y per v trasposto posso esprimerlo come funzione della nuova base il vettore x è come se questi vettori della base canonica è come se li moltiplicassi per i qua invece vado a considerare una nuova base questa v questa v tra v trasposto v tra v trasposto che lo vedete qua v tra v trasposto cioè c'è proprio tutta l'implementazione in pratica per trovare le nuove coordinate io devo fare semplicemente questa operazione e queste sono le nuove coordinate chiamoci alla riga qua 74 queste sono le nuove coordinate 3.87 0.34 ok adesso lo facciamo girare tutto queste sono le nuove coordinate 3.88 0.348 le nuove coordinate nella nuova base v1 e v2 e queste perciò in pratica qua si va a prendere la rotazione in pratica ci sono infinite basi infiniti modi di rappresentare i vettori io invece di prendere la rappresentazione questa la rappresentazione in termini dei vettori canonici poi voglio andare a scegliere gli assi cartesiani che passano per le direzioni di massima variabilità ecco come è il discorso i contorni sono degli ellissi e gli nuovi assi cartesiani li faccio passare per l'asse maggiore e per l'asse minore dell'ellisse questa è la figata se uno riesce a capire questa cosa non gli assi cartesiani normali ma faccio nuovi assi cartesiani che vanno a passare attraverso le direzioni dell'ellisse cioè dell'ellissoide in pi dimensione dopo si è arrivato ad un certo punto dopo c'è la bellezza della droga della conoscenza però adesso non riuscite ancora ad apprezzare determinate cose ma chi lo sa anch'io a vent'anni pensavo solo a cose che erano ortogonali a quelle a cui penso adesso capito perciò è giusto che a vent'anni uno pensi più si concentri più a determinate cose e poi ad altre con l'andare del team va bene adesso abbiamo visto in pratica come fare questo cambio di base adesso entriamo nel mondo questo mondo magico degli otto vettori degli otto valori non so se l'avete mai sentiti mai sentiti prima in inglese si chiamano eigenvalues and eigenvectors allora prima cambio base e andiamo a prendere questo che si chiama questa funzione che non è stata scritta da me ma è stata scritta da quello che ha inventato MATLAB il professore Cliff Moller è il professore adesso ritardo al MIT AIG la scritta nella versione della scritta già 20 anni fa 30 anni fa adesso da degli warning poi vi dice vedete ho un vettore x che effetto che cosa mi da quando io faccio A per x dove A è questa matrice quando faccio A per x quando A è questa matrice questo è A per x quando io scelgo un'altra matrice vettore x qua mi viene un altro vettore scelgo un'altra matrice mi viene x e un'altra matrice x vedete ok a seconda della matrice che scelgo il nuovo vettore viene trasportato in un altro vettore questo è l'effetto fare A per x la moltiplicazione matriciale e questo vettore può essere accorciato può diventare più lungo capito degli altri bene adesso guardate questi vettori vedete e qua Cliff Moller guardate cosa è inventato l'ha inventato 20 anni fa questa eh cioè l'ha ideato lui allora make A times x parallel to x questi qua allora li devi fare in modo tale che questi giacciono lungo sulla stessa sulla stessa vedete sulla stessa line ok allora questo qua allora in questo caso ci si fa a fare questo giochetto eh io lo ruoto e ci sono due possibilità o qua oppure qua va bene vediamone eh vediamone un'altra qua ce la faccio si qua ce la faccio vediamone un'altra ancora si anche qua ce la faccio questo ce la faccio questo ah no guardate qua non ce la faccio comunque tu le ruoti non ce la fai vedete non ce la fai insomma se eh l'anda per x cosa vuol dire l'anda per x vuol dire che prendi il vettore lo allungo lo accorcio se l'anda è maggiore di 1 lo allungo se l'anda è minore di 1 io l'accorcio perciò questa a per x quando e anche qua non ce la faccio a ad allinearli make e s ok qua si qua ce la faccio vedete qua assolutamente ce la faccio in questo caso quando a per x diventa uguale a l'anda per x l'anda per x vuol dire che il vettore lo allungo l'accorcio beh in questa situazione si dice che l'anda è l'autovalore di x e x è il corrispondente autovettore a per x è è una una moltiplicazione di una matrice per un vettore qua mi dice mi devi trovare i casi in cui a per x moltiplicare per tutta questa matrice è equivalente a moltiplicare per un solo numero o moltiplicare per tutta una matrice se queste dimensioni n per n o n al quadrato numeri qua invece l'anda è un numerino solo perciò appare chiaro che questo numerino avrà qualcosa di particolare ok questi numerini gli autovalori sono le leggi di moto dei pianeti i pianeti questa e queste norme massi di questo universo matematico si muovono in base a questi alle regole degli autovalori degli auto vettori che sono degli ellissi queste pensate queste cose queste enormi cose inspiegabili che seguono la legge delle forme quadratiche delle ellisse degli autovalori degli auto vettori ma è una cosa affascinante al massimo se uno riesce a entrarci a entrarci dentro allora adesso abbiamo bisogno di altri concetti adesso vi ho introdotto come calcolarli adesso vediamo però ci sono dei concetti ulteriori allora concetto di rango della matrice il massimo numero di rigo di colonne linearmente indipendenti abbiamo visto cosa vuol dire linearmente indipendenti vuol dire che una colonna se è linearmente indipendente non può essere ottenuta come combinazioni lineare delle altre se io ho questa matrice x che è 10-20 poi dopo ho 20-40 questa questa qua non ha rango 2 tant'è vero che il suo determinante il suo determinante det di x è il suo determinante 0 il rango il massimo numero si fa con rank è 1 non è 2 il massimo numero di rigo di colonne linearmente indipendenti questo si fa con la funzione rank allora questo a per x uguale b e vediamo l'interpretazione algebrica nei sistemi di equazioni lineari nei sistemi di equazioni lineari qua se vi ricordate c'era nel libro nel capitolo 2 c'era un sistemi eccolo qua risoluzione sistemi di equazioni lineari nella 2.9 ecco vediamone vediamo un altro se io questo sistema questo sistema siete d'accordo che lo posso scrivere come a per x uguale a b stiamo un attimo sopra quando faccio a per x faccio 3 per x con 1 più 5 per x con 2 più 4 per x con 3 che sarebbe questa prima equazione uguale a 25 la seconda è 2 per x con 1 più 10 per x con 2 più x con 3 che sarebbe la seconda equazione uguale a 25 la terza è 2 per x con 1 più 2 per x con 2 più 9 per x con 3 uguale a 33 di un po' sì certo un 3 per 1 b è un 3 per 1 è un 3 per 3 per un 3 per 1 ti dà luogo un 3 per 1 a è la matrice questa matrice che è 3 per 3 a è una matrice no no b è un 3 per 1 lo vedi da qua è b un vettore 3 per 1 no 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 3 per 3 la tua incognita è un 3 per 1 perciò prima ti ho fatto vedere qua cosa vuol dire fare a per x che del vettore x conosci a e ti trovi ti trovi il nuovo vettore perché a per x questo qua dà luogo di un nuovo vettore vedete un nuovo vettore in 3d bene qua invece conosci a conosci b e vuoi trovare x capito prima avevi a e avevi x e volevi trovare b un nuovo vettore che era a per x qua invece conosci a conosci b e vuoi trovare x è l'interpretazione bene x a cosa uguale come ma no sono matrici non c'è l'operazione di divisione nelle matrici x uguale no no per far saltare via questa a cosa devo fare qua ci devo far saltare fuori l'identità perché a per a alla meno 1 alla meno 1 per b certo l'inversa di a per b ma certo ma certo se qua io ho a e b questi che li vado a prendere a e b perciò a è questo b è questo se io faccio l'inversa di a per b l'inversa di a per b e mi dà luogo alla mia soluzione allora l'inversa di a questa è l'inversa di a allora guardate questo ho fatto l'inversa di a guardate questa diavoleria formato format rat li metti numeri frazionari quando faccio l'inversa di a e me lo vedi in termini di frazione una cosa per cui peno 10 minuti per trovare l'inversa carta e penna capito vedete torniamo al nostro format short format short di conseguenza allora se il sistema è del tipo a per x uguale a b x uguale a alla meno 1 per b certo poi matrab e il segno di fabbrica di matrab abex slash b e mi dà già la soluzione capito questo è loro l'hanno ottimizzata al massimo questo perché infatti adesso 3 per 3 non ci sono problemi ma anche se io mettete una 10.000 per 10.000 è di una velocità esagerata immaginate in banca d'italia quando devono risolvere tutte le equazioni simultanei o hai una cosa che è di una velocità esagerata o se no non vai avanti dunque allora perciò questo il nostro quando diciamo che a per x è uguale all'and a per x questo a per x uguale all'and a per x l'abbiamo già vista questa animazione allora a per x uguale all'and a per x e qua quella cosa che vi ho fatto vedere prima perciò devi trovare una cosa dunque dato x devi trovare tale per cui a per x uguale all'and questi due vettori giacciono tutti lungo la stessa direzione se riesci a trovarlo l'and è l'autovalore e invece x è l'auto vettore allora andiamo un attimino a vedere vediamo un po' l'help l'help eccolo qua andiamo su internet eccolo qua allora guardate l'animazione avete x e a per x questo x traccia un cerchio a per x traccia un'ellisse la direzione di massima variabilità guardate che figata è l'asse maggiore dell'ellisse e l'asse minore è la seconda direzione di massima variabilità sperate che adesso se prendete x quando ruota diventa un cerchio a per x quando ruota diventa un'ellisse la direzione di massima variabilità è l'asse maggiore dell'ellisse ma guardate è eccezionale questo se uno riceve l'orbita di questi pianeti di queste enorme masse e c'è l'asse maggiore l'asse minore dell'ellisse va bene qua poi dopo ti fa ti fa vedere va bene io l'ho sempre ritenuto molto molto interessante questo esempio allora se a per x uguale a lambda per x questo lo posso scrivere con a meno lambda per i tanto per i la matrice di unità per x è uguale a x siete d'accordo su questo passaggio poi ma questo è un sistema di equazioni lineare omogenee se vuol se p per x è uguale a 0 e questo sistema di equazioni lineare omogeneo se tu lineare omogeneo vuol dire che non c'è il termine noto vedete che nell'esempio precedente c'era a per x uguale a b c'erano i risultati i termini noti questo invece è un sistema lineare omogeneo questo è un vettore di 0 di conseguenza questo vettore di 0 ammette sempre la soluzione x uguale a 0 perché se tanto tutti qualsiasi numero li moltiplico per una cosa che è 0 ho 0 allora i numerini lambda sono i numerini che rendono che rendono possibile che questo sistema abbia infinite soluzioni e quando ero io quando ero piccolo mi dice ma cosa mi serve di infinite soluzioni infinite soluzioni perché mi ha pensato una cosa dei matematici che non servizia assolutamente a niente infatti se il rango non è rango pieno se il determinante è 0 io ho infinite soluzioni e allora qua questi lambda sono quei numerini che rendono 0 il determinante perché se no l'unica possibile soluzione è quella con is uguale a 0 se la matrice ha rango pieno perciò deve avere una matrice che non ha rango pieno sia che il suo determinante è 0 anche lì il determinante è pari al volume vuol dire perciò che infatti i due vettori sono perfettamente allineati allora cosa devo fare faccio questi calcolini a meno lambda per i se hai questo questo è a meno lambda per i questo mi viene il mio determinante il mio determinante è un polinomio di secondo grado cioè se io parto da una matrice che è 2 per 2 io arrivo a determinare due autovalori se io parto da una matrice che è 3 per 3 arrivo a determinare tre autovalori se parto da una matrice che è p per p ho un polinomio di grado p un polinomio di grado p e ha p soluzioni questa è l'equazione del teorema fondamentale dell'algebra polinomio di grado 2 lo so risolvere un polinomio di grado 3 non so se l'avete fatta le superiori ma ai miei tempi si faceva con la tecnica di cosiddetto ruffini che andavi a provare soluzioni 1 meno 1 che andavi a fare tutta bene ok qua o lo fa il computer o lo fa il computer già 400 anni fa questo questo matematico francese Galois che lui aveva già inventato tutta questa serie di cose che aveva 20 anni e il giorno dopo lui pensate per una donna lui è andato a battersi in un duello questo grande matematico che sapeva assai di armi di niente chiaramente è chiaro che è morto nel duello nella spada così è stato infilzato allora lui ha dato tutte queste lettere io è un amico perché pubblicassero tutti i suoi teoremi il giorno prima di questo duello lui sapeva che tanto il giorno dopo voleva e perciò di conseguenza non poteva dire di no non poteva esimersi dal duello tanto è vero che è morto però ha lasciato tutte queste lettere che sono state pubblicate sugli otto valori sugli otto vettori pensate il giorno prima che fa il duello lui pensa agli otto valori e agli otto vettori ma per dirvi com'è la la vita allora adesso proviamo questo out of out out of out allora come dice data questa matrice calcolare gli otto gli otto valori allora data questa matrice la funzione poli la funzione poli mi calcola il cosiddetto polinomio caratteristico vedete 1-5 e 4 1-5 e 4 corrisponde esattamente all'equazione di secondo grado che deve essere risolta vedete i coefficienti dell'equazione di secondo grado 1-5 e 4 cioè data la matrice A questa poli A mi calcola il polinomio caratteristico intanto è vero lo chiedo vedete poli polinomio or characteristic polynomial polinomio caratteristico infatti è esattamente vedete quello cerca i valori del determinante di lambda i meno a o a meno lambda i la stessa cosa returns the n plus 1 coefficient of the caratteristico polinomio del polinomio caratteristico allora qua mi trovo il polinomio caratteristico e da questa equazione di secondo grado questa è un'equazione di secondo grado adesso qua ho scritto un piccolo programmino per mostrare queste equazioni di secondo grado eccolo qua vedete x al quadrato meno 5x più 4 l'equazione di secondo grado va bene la sappiamo risolvere in MATLAB per risolvere un'equazione si fa roots roots del polinomio caratteristico e sono 4 e 1 infatti se voi lo fate e risolvete l'equazione di secondo grado vi trovate 4 e 1 poi andando a sostituire i valori di 4 e 1 allora andate a trovare i rispettivi autovettori allora qua vi faccio vedere quali sono tutti i dettagli andate a sostituire qua il valore 4 trovato in questa equazione in questa equazione andate a sostituire il valore 4 e vedete che ci sono queste due equazioni vedete 2 s con 2 uguale 2 s con 1 s con 1 uguale s con 2 in effetti questi lambda avevano portato a 0 il determinante e perciò ci sono infinite soluzioni vedete che s con 1 è uguale s con 2 la seconda è ridondante ed è quello che volevo capito perché per forza questi lambda hanno reso 0 il determinante sono quei valori tali per cui questo il determinante di a meno lambda con i è 0 allora ci sono infinite soluzioni e allora cosa faccio per evitare infinite soluzioni ci metto una nuova un nuovo vincolo e il vincolo è quello di norma unitaria allora quali sono gli unici due numerini che sono il primo uguale al secondo e la loro somma dei quadrati è 1 sono 1 su radice di 2 1 su radice di 2 perciò il primo è uguale al secondo e la somma dei quadrati è 1 e similmente potete trovare anche il secondo autovettore allora questo immaginate ovviamente c'è la funzione EIG di MATLAB che vi calcola questi autovalori la funzione EIG gli autovalori semplicemente eccola qua EIG e questo ve li calcola di qualsiasi matrice dimensioni P per P non c'è bisogno di farlo FI non c'è bisogno di far niente EIG te li spara tutti EIG chiamato con un solo argomento di output se EIG viene chiamato con due argomenti di output se EIG viene chiamato con due argomenti di auto vi permette di trovare allora se EIG viene chiamato con due argomenti di auto vi permette di trovare gli autovettori e questa l'ANDA la matrice diagonale che contiene sulla diagonale principale gli autovalori allora questo vuol dire che in corrispondenza del secondo autovalore che è 4 e lui li ordina dal più piccolo al più grande qua il secondo autovettore vedete che è meno 0,70,71 meno 0,70,71 questo invece qua avevo scritto 0,707 0,707 perché l'equazione A per X uguale l'ANDA per X è verificata anche quando X è meno X cioè quando io faccio questo questo giochetto i vettori si allineano sia qua i vettori eh andiamola a vedere questo qua i vettori si allineano qua ma si allineano anche da da si allineavano anche sotto andiamo a rivedere di nuovo il nostro Ike Show Ike Show mostrati di nuovo close all A per X uguale a questo qua i vettori erano allineati in questo punto ma sono allineati anche in questo punto perciò se X è un otto vettore lo è anche meno X ma certo A per X uguale l'ANDA per X è uguale anche A per meno X uguale l'ANDA per meno X perciò le coordinate dove c'è il più e il più oppure il meno e il meno questo è un otto vettore ma anche meno 07 meno 07 è anche un otto vettore perciò gli otto vettori sono definiti a meno del segno dunque perciò se X è un otto vettore anche meno X lo è allora c'è questo out of out ecco non devo dirlo perché sono in internet riprendiamo la registrazione con il proiettore di nuovo acceso allora nel testo poi vi faccio vedere anche come calcolare con il calcolo simbolico e ogni prima vi faccio vedere questa V questa matrice degli otto vettori questa V è tale per cui V trasposto per questa V trasposto per V se la matrice di partenza è simmetrica se la matrice di trasposto è simmetrica questa V trasposto per V è una matrice che è identità cioè la matrice V è ortogonale se la matrice di partenza è simmetrica cioè se parto dalla forma quadratica che è un'ellisse e vi faccio vedere come ogni matrice può essere scomposta in termini di autovettori e autovelori e qua c'è questa scomp scomp out dove si fa vedere come qua c'è questa matrice S matrice S che è simmetrica in questo caso la matrice V è tale per cui V trasposto per V è la matrice identità che in pratica questa è una nuova base io questa variabilità nello spazio a P dimensioni metto le rette di massima variabilità e le faccio passare per gli assi maggiori dell'elissoide un'ultima lasciamo lasciamo perdere perché qua ci vorrebbe altri 10 minuti e probabilmente non ce li ho vero ecco bene va bene va bene va bene ok bene allora noi ci vediamo chi vuole domani vi saluto e vi ringrazio